Senti di avere talento per il mondo degli investimenti immobiliari e vorresti esprimerlo al meglio? Se hai risposto di sì a questa domanda, questo è il video più interessante che guarderai oggi. Ciao, sono Giuseppe Gatti e questo è un progetto legato al mondo degli investimenti immobiliari molto importante. Ci tengo a dirti che non è un corso di formazione, ma bensì un percorso e un percorso che seguo personalmente. Nel corso degli anni all'interno di questo settore mi sono accorto che molte persone hanno un grande potenziale, però non riescono ad esprimerlo. Motivo per il quale ho creato il Giardino dei talenti e siamo alla quarta edizione. Magari se hai guardato già uno dei miei video avrai visto che ci sono molti partecipanti che sono passati dall'essere aspiranti investitori immobiliari a investitori professionisti che svolgono questa attività a tempo pieno, oppure già professionisti del settore immobiliare che hanno scalato vertiginosamente la loro attività, arrivando ad avere anche decine e decine di cantieri attivi ogni mese. Lavorando insieme un anno, gomito a gomito, riusciamo a trasferire tutto il know-how per far sì che tu possa avere tutte le competenze e le caratteristiche per poterti proporre ed eventualmente anche ottenere un finanziamento per le tue operazioni immobiliari. Questi 12 mesi di percorso saranno scanditi da sei appuntamenti fisici. Ci vedremo a Torino, il gruppo è di massimo 10 persone e ci saranno sei appuntamenti virtuali, se così vogliamo dire, individuali, quindi one to one in video call oppure se hai piacere di venire a Torino anche per gli appuntamenti singoli ci vedremo personalmente. L'accesso al Mastermind, il Giardino dei Talenti, è subordinato ad una candidatura. Questo perché il numero deve essere molto piccolo. Ho deciso di non superare le 10 persone e ogni anno fortunatamente ci sono centinaia di persone interessate a questo percorso. Ogni grande viaggio inizia con un primo passo. Il tuo primo passo, se lo vorrai, sarà quello di inviare la candidatura per diventare uno dei partecipanti al Mastermind, il Giardino dei Talenti. Grazie a tutti!